Ok, ciao a tutti amici, benvenuti alla nostra consueta rassegna stampa. Oggi vi facciamo vedere National Geographic del 1974. Questa è una rivistina, questo set è di tre riviste, lo comprese un mercato delle pulci, praticamente per un dollaro, perché ce n'erano altri libri. L'ho comprato per vedere le pubblicità antiche o com'era National Geographic. Partiamo subito dalla nostra rassegna stampa, la copertina è molto bella, questa famosissima attrice della Papuasia, ballerina, short girl, la conosciamo tutti. Ecco, arriviamo subito dalla nostra pubblicità, è uscita la 1275 Ford Elite, potete vedere, molto bella, confortevole, il divanetto interno. Qui possiamo vedere questi due attori sitcom molto famosi. Questo c'è una giacca che sembra De Nekroid in qualche sketch di Saturday Night Live. Questa qua possiamo vedere la nuova Polaroid uscita, molto bella, pratica, che si chiude. Qui possiamo vedere questo. Poi pubblicità doppio paginone, molto bello. Unione, compagnia petrolifera, oggi, i pionieri, lo spirito del 76, è come gli uomini, come il dottor Al Huffman, che ha aiutato a tenere i cieli blu con Unistars, senza scia chimica. Potete vedere, molto bello. Altra pubblicità di una famosissima marca fotografica, la Mamiya Secor, la conosciamo tutti. Pubblicità di qua. Perché è alluminio? Questo transport aiuta a tenere il costo della benzina giù, facendo più spedizioni. Perché è di alluminio, eh? Eh, è quello! È alluminio! Che cavolo c'è? Evidentemente una volta li facciamo di ferro o di qualche altro materiale che non erano così grossi. Possiamo vedere questa pubblicità, un'altra macchina fotografica, la Minolta, conosciamo tutti. Questa bellissima bimbetta. Caterpillar. Adesso uno, se non vedesse che è Caterpillar, direste mai che questa è una pubblicità della Caterpillar? No! È invece della Caterpillar. Se noi, mai, se noi finissimo un bel giorno i metalli, vivremo in questo modo, con la casetta, molto bella, la fattoria. Il mondo ha un casino di metalli. Una pubblicità un po' smincolata, secondo il parere mio. Articolo di centrale, molto bello. Altro doppio paginone, sempre i petroliferi, la Exxon. Poi una penna. Ovviamente questa penna la usano i petroliferi, molto bella. Allora, venire dai polinesiani. Qui tre fotomodelle polinesiane, molto belle. La Polinesia, molto bella. Mascheroni, molto bella. Isola di Pasqua, con i famosissimi Moai. Indigeno, molto bello. Qui figura di sfondo. Possiamo vedere due in costume da bagno, che si fanno i tatuaggi. Sicuramente un po' gari, anche. Questo qui, morto, sicuramente. Qua, tutto qua, tutto qua. Cioè, è tutto... È anche un po' oggi, nelle cirogeografiche, c'è un tema principale. Però qui che cavolo! 20 pagine sulla Polinesia. E che due pralle! Poi possiamo notare molte illustrazioni, che nel 1974 c'erano meno fotografi. Possiamo vedere qua. È stato paparazzato sto qua. Una posa molto bella. Questo qui, questo qui. Questo qua. Ok, andiamo avanti. Poi c'è anche l'inserto. Non lo so. Questo è l'inserto? Piacchiamolo. Questo è un villaggio aragonese. Pirenei. Questo qui, questo qui. Possiamo notare che non ci sono molte pubblicità all'interno. Solo alla fine e all'inizio. Però mi pare che anche nel cirogeografico quello odierne non abbia tante pubblicità all'inizio e alla fine. Solo all'inizio e alla fine. Alla fine possiamo notare pubblicità Kodak. Molto bella. Questo qui, anellino. Molto bello. Un'altra macchina fotografica svinchiolata che è fallita. La Nikormat. È un'automatica dalla Nikon. Si vede che era una sottomarca della Nikon. Oppure si è fusa con la Nikon. Però la Nikon già esisteva. Infatti qua dice un'automatica dalla Nikon. Poi possiamo vedere bellissima macchina da scrivere. E poi qui. Salvare tempo, denaro e benzina. Coprendo il tuo territorio in un beachcraft bonanza. Praticamente questo superoletto compone un aereo. Cessna. Questo è il posto giusto. Potete chiamare questo il numero qua. Poi per finire abbiamo questa bellissima bugità di questo mobile. Che in realtà è uno ster a quattro canali. Guarda che bello. Questo andrebbe benissimo nella vostra casa. Dello Zenit. Sembra più un robo da chiesa. Partiamo invece con questa rivista del 1968. Qua possiamo vedere il Golfo di Napoli. Molto bello. Con i caratteristici... Non è vero. Questo è il lago di Como. Con il caratteristico... Casettina. Caratteristiche montagne di eto. Caratteristica acqua. E basta. Partiamo subito. La prima pubblicità è una pubblicità petrolifera. Cioè i petroliferi hanno fondato National Geographic a sto punto. O anche compagnere o petrolifere. American Airlines. L'ultima volta che hai visto l'America... L'ultima volta che hai visto l'America... L'ultima volta che hai visto l'America... Aggiungi solamente acqua. Le navi loro le hanno. Le barchette. Bisogna solo aggiungere acqua. Abbastanza bella. Questa qui. Questa è la pubblicità per il tollifera. Questo lago è molto bello. C'è con me un... Ce ne sono ancora di queste Gastation qua. Col dinosauro. Però pochissime. Ormai ci sono più. Poi Mazzola. Margarina. Questa è una assicurazione. Una fantasticissima Pentax. Una bla bla bla. Un'altra pubblicità qui. Pubblicità forse di una banca. Ecco. Entriamo nel vivo. La nuova Cadillac del 1968. Possiamo vedere l'interno divanetto con i ghirigori. Con tre cinture. Perché si poteva stare in tre davanti. Guarda che bella. Lunghissima. Due porte. Cioè praticamente adesso forse il disegno è un po' sparato. Però penso di no. Praticamente il cofano. Guarda qui da dove c'è il baule. È quasi grande come la metà della macchina. Cioè quasi insomma da questa parte qui è quasi grande come tutta l'interno della macchina. Quindi perché è fatta apposta. Perché qui dentro potete notare qui articolo di fondo. Ci stanno cinque persone. E qua dentro ci stanno quattro persone. Però sdragliate e morte. Prossima. Ecco possiamo notare questa qui fortezza in Canada. Molto bella. Una centrale. Elettrola idroelettrica. Che viene costruita. Entriamo subito nel vivo. Ecco possiamo mettere classica famiglia lago di Como. Ah no non è questa. Una battutona. Possiamo vedere le Iene. Molto bella. Possiamo vedere questo qui è Marco Berri. Questo è Giulio Golia. Prossima. Ecco. Entriamo nel vivo. Lombardia. I laghi della Lombardia. I gioielli blu. Nella corona dell'Italia. Potete vedere il lago di Como. Molto bello. Classici famiglia. Con maschera. Che fila la lana. Con il bambino in braccio. Classica massaia italiana. Vediamo della cartina. Molto bella. Illustrata. Ovviamente a Como c'è gente ricca. Che ha l'aereo. Che parte direttamente dal lago. Classico. Uomo che porta a spasso il cane. Possiamo vedere la tenuta degli anni 60 italiano. Molto bella. Le sfilate di moda. So qui. Città. Di Como. Classica donna dell'Italia. Campagnola. So qui. So qui. Lavoro nei campi. Eccola. Questo è il classico. Ehm. Visione. Delle persone italiane dall'estero. Ecco. Questa qui. Con la maglia. Così. Con il fulare in testa. Perché altro che non ci ha messo una tutta vestita di nero. Quello. Quello è un po'. Ecco. Anche qui possiamo notare. È molto bello. Ma va che sti comaschi sono proprio dei campagnoli. Guarda che roba. Io ci avrei messo uno che suona a trombo. Un po' più rumeno. Tipo Emir Custurica. Non lo so. Qualche trombone. Ce lo vesche. Uno con la fisarmonica. Uno zampone. Zampogna e zampone. Ecco. Possiamo vedere qui la gente che fa il bagno nel lago di Como. Con questa bellissima veduta del castello Comasco. Il famosissimo castello del signorotto bla bla bla. Donali. Questo qua. Questo qua. Ecco. Tipici balli italiani. Vedete vedere. Questo qua. Questo. Lavoratore. Questo è famosissimo. Lo conosciamo tutti. La terrazza del giardino di Isola Bella. Questo è Borromeo. Lo conosciamo tutti. Fanno le mattonelle. Molto bello. Ecco. Guarda che bella veduta. E basta. Vediamo qui. Vediamo qui. Vediamo qui. Che risolto. Devo andare via. Oh. Adesso possiamo notare questa fantastica pubblicità. Il Picasso di Chicago. O. La tua arte. Il tuo agente può assicurare entrambi. Questo qua. Questi tuoi quadretti. E soprattutto il divano. Con le righe. Molto bello. Guarda che bello è. Questa qui. Delta. Molto bello. L'ultimo per finire velocemente. Del 63 maggio 63. Si è notare questa showgirl. Indiana. Indiana. Questo. Hamilton Electric. Quale 5.5. Non ho capito. Ciao. Passiamo ad ottenere la ultima televisione. Bellissima. RCA. SD. Non HD. SD. Possete vedere Walt Disney. Con maravigliosi colori. Potete vedere. Così. Tondo. Ecco. E' uscita la nuova Thunderbird. Leggiamo qui l'articolo di fondo. Allora. Thunderbird. Nuovo. V8. 390 cavalli. Equipaggiata per rendere la vostra. Gita molto bella. E' un superbo. L'ingegneria superba. Ha risultato in programma di. Compartela tutti. Molto bello. Sicuramente non mi piace perché quella è tipo la Ford Mustang Quella lì un po' troppo piccolina A me piace la Ford Thunderbird, sì Però quella che ha il Conte Mascetti in Amici Miei Che loro nel film mi pare che dicono che è una Buick A me mi sembrava una Ford Thunderbird invece Però c'è da dire che in Amici Miei uno è una macchina E in Amici Miei due è un'altra Comunque Tè nel Mar Morto Una fantasticissima pubblicità del governo israeliano Poi sta cacata qua MG bruttissima Non la vogliamo anche vedere, noi ci piacciono le macchine americane Bermuda Giro del mondo in 80 giorni Orologi, orologi Ecco, ma questa qui per essere del 63 mi ha un po' stupito È una fotocopiatrice che fa anche il colore E poi non ha liquidi, non ha... non lo so come funziona E non so neanche quanto costa Secondo me costa un sacco Però da qui Sembra che sia anche bella Funzioni benino Ah, ecco Chevrolet Anche possiamo vedere la Station Vagon Molto bella La Chevrolet 425 cavalli Include il popolare Turbo Fire Turbo Fire 409 con 340 cavalli Per una gita Una guida Sportiva Molto soffice Molto Equilibrata Questa ve la consiglio a tutti Soprattutto a Station Vagon Che potete caricare un sacco di kayak e bici Sopra Questo qui Albert Qua se volete comprare una Una barchetta Ah, eccola La Buke Electra 22 5 Questa Questa C'ha una turbina Automatico Transmission Alluminio Freni in alluminio Si chiama Electra Però Ed è nel 1963 Però Non dice che sia Elettrica O cosa Però comunque È molto bella Mi piace La linea molto sobria Le finituri Molto dettagliate Design Molto Se non ti ha il design Molto equilibrato Minimalista A Steve Jobs Sarebbe piaciuto Insomma Qua L'inserto Dedicato all'India Molto bello Provenimi Indiani Kodak One Finger Photography Una cosa Di mercati dei pulci Che mi sto un po' sulle palle Anche in antiquariati Che loro prendono Ste riviste antiche Strapano qui in qua E mettono in un quadro Questo Publicità vecchia E poi la vendono A 10 dollari Adesso in questo caso Non è che si eccezionare Sto pubblicità Però Quella lì Della Cadilla Che non sarebbe male Fare un quadretto Però è sempre una pagina Strappata da un giornale Non è che sia una roba Proprio una stampa Una litografia Famosissima Comunque questo è quanto Possiamo vedere i sedili Di questa Della Ford Ford, Mercury, Thunderbird, Lincoln, Continental Sono fatti belli Di pelle Non Sminchiolatissimi Molto belli Molto belli Nuova potenza Per lo spazio I Ray-Ban C'erano già Un sacco di pubblicità piccole Machu Picchu Viaggiate con la Pan Am Bell Telephone System Mesa Verde Comunque questo è quanto Al mercato dei pulci Se volete Ce ne sono altri C'è un pacco così Un pacco così Di questi Nessero Geographic Però erano Alcuni nuovi Dell'80 80 troppo nuovo Infatti questo era Il più vecchio che avevano Poi mi sarebbe piaciuto Prenderli tipo in sequenza 63, 64, 65 Però c'era 63 68 E 74 E poi c'era Altri 75 76 Allora per veramente tutto Da questa restenga stampa Ci vediamo alla prossima puntata Ciao